parte dell'esecuzione, è buono così? Sì, è un punteggio forse per lei un po' basso, ma in assoluto rimane comunque un 14-0-33 legato al fatto che il punteggio di partenza è molto alto, è 6, però ci sono quasi due punti di penalità sull'esecuzione. E questo per quanto riguarda invece il volteggio, la Valeria Osipova, l'atleta ucraina? Era un avvitamento in mezzo, sempre dal salto dietro. Il punteggio per Diana Varinska per quanto riguarda l'atleta ucraina, abbiamo questo punteggio di C.